Inizierà domenica 8 settembre Calciotto, il torneo di calcio a otto organizzato dai giovani della Diocesi di Fenza Modigliani in collaborazione con il CSI e l'Aspi e grazie a Favenzia Sales che metterà a disposizione il rinnovato campo da calcio dei Salesiani. Ciro Ferrara, Katia Serra e Alessandro Alciato saranno i testimoni della prima giornata in campo e in un momento d'incontro aperto a tutta la cittadinanza a cui seguirà una cena di beneficenza a sostegno dei bambini delle zone più disagiate di Napoli. 9 squadre maschili e 2 femminili formate da ragazze delle parrocchie dei reparti scout si sfideranno quindi per 4 settimane. Il torneo terminerà il 6 ottobre in occasione dell'avvio del nuovo anno pastorale che punterà ad assegnare ai giovani un ruolo da protagonista all'interno della società. Calciotto rappresenta l'inizio dell'attività della nuova area sportiva dei Salesiani gestita dal Favenzia Calcio 5 che avvierà una nuova scuola calcio per giovani bambini. L'8 settembre parte il calciotto, questa nuova esperienza diocesana in collaborazione con Favenza Sales, un torneo che vuole essere non soltanto un torneo di calcio, tra l'altro con la formula del calciotto che è abbastanza innovativa per la nostra zona e il nostro territorio, ma che vuole essere anche un punto formativo ed educativo per tutta la cittadinanza e in modo particolare per i ragazzi. Per questo motivo abbiamo pensato di organizzare per il giorno dell'inaugurazione un momento di incontro con due grandi ex campioni dello sport, Katia Serra, ex calciatrice di Serie A e della Nazionale, e Ciro Ferrara, ex calciatore di Nazionale, Napoli e Juventus. Entrambi sono stati grandi sportivi che hanno unito al talento anche tutta una serie di valori che noi riteniamo importanti da comunicare ai giovani come l'etica sportiva, l'impegno, il sacrificio, il sudore, quello che fa fare fatica per riuscire a raggiungere i risultati. Il torneo invece come si svolgerà? Il torneo prevede come primo anno la presenza di nove gruppi, nove parrocchie, che si sfideranno nei gironi, quindi avremo dei gironi poi i quarti di finale, la semifinale e la finale. Abbiamo anche aperto alle squadre femminili e siamo riusciti ad avere due squadre femminili che faranno un'andata e un ritorno. Per lanciare il torneo, prima dell'incontro con Ferrara, sempre l'8 settembre e invito tutti a venire, si è pensato a un piccolo triangolare simbolico, così goliardico, tra tre compagini, una rappresentanza dei giovani della Diocesi, che richiama quindi il torneo, il calciotto che sarà appunto rivolto ai giovani della Diocesi, una rappresentanza di amici di Favenza Sales e una rappresentanza delle vecchie glorie Orsa. Orsa appunto oratorio salesiani, questo perché? Perché ci è sembrato bello richiamare qui alcuni di quegli ormai ex giovani che hanno giocato in questa squadra, che si allenava appunto in questo campo. Campo che appunto verrà tutto completamente rinnovato insieme agli spogliatoi, e per questo appunto ringraziamo Favenza Sales. Saranno presenti già in questo torneo inaugurale Ciro Ferrara, Katia Serra e Alessandra Alciato, il giornalista Sky che farà l'incontro, che faranno un po' di allenatori, giocatori e allenatori in campo. Il torneo di calciotto che viene organizzato all'interno dei salesiani è un'ottima occasione per inaugurare il nuovo campo, lo ha appena seminato e i nuovi spogliatoi che completano appunto l'area sportiva. Sì, Favenza Sales è fiera appunto di aver ridato vita al campo sportivo dell'Orsa, quindi al campo che è all'interno del nostro complesso dei salesiani, proprio perché da statuto abbiamo molto a cuore che i giovani appunto si formino all'interno di questi luoghi, di questi spazi, come storicamente è sempre stato fatto, e sicuramente anche lo sport, come appunto il calcio, eccetera, che verrà sviluppato all'interno del nostro campo sportivo, è sicuramente uno dei veicoli migliori per i ragazzi, per formarsi e per essere educati. Oltre a questo, nei prossimi mesi inaugureremo anche appunto la scuola di musica adiacente al campo sportivo e anche una palestra proprio nell'immediato, nei prossimi giorni. E quindi diciamo che con queste tre nuove grandi inaugurazioni, Favenza Sales riesce a ridare vita a questo complesso e speriamo che appunto i giovani rispondano vivendo questa cittadella della formazione, dei giovani e dello sport che appunto abbiamo cercato di ristrutturare e ridonare alla cittadinanza. Dopo il momento inaugurale, al termine del torneo ci sarà un'altra giornata evento, lì come funzionerà invece? È una giornata un po' di lancio di attività per tutti i giovani della diocesi, abbiamo pensato quindi di fare una grande festa in cui oltre alle finali di due tornei maschile e femminile, anche qui sempre per dare qualche spunto di riflessione abbiamo pensato di fare un altro incontro, in questo caso dando spazio e luce a un altro tema molto bello secondo me che sta crescendo che è quello dello sport paralimpico. Avremo Emanuele Lambertini che è un nazionale parolimpico di scherma e sarà con noi anche l'atleta Faentino Massimo Resta, notatore Faentino Massimo Resta, per un momento così appunto di testimonianza e dialogo con questi due atleti. Area sportiva, area dedicata alla scuola di musica e non solo la palestra, ormai è completato tutto il percorso di riqualificazione dei salesiani? Sì, diciamo che appunto anche grazie ai servizi sociali e all'università che appunto si sono ricollocati nei nostri spazi e appunto alle ristrutturazioni piccole che stiamo facendo perché verranno anche altri privati ad occupare i nostri spazi il grosso di Favenzia Sales, insomma del complesso degli ex salesiani è stato ristrutturato rimangono da prendere in mano il teatro e la chiesa che appunto sono nei progetti dei prossimi anni per il CDA di Favenzia Sales ma in questo momento diciamo che il CDA è molto contento dei passi avanti fatti e del poter aver ridato questo spazio alla città di Favenza.